Stavo facendo un saluto e di ringraziamento a Rolf Wirt, che è stato per noi una persona molto gradita in quanto ci ha anche permesso di poter avviare queste attività con i dialoghi e del circolo, che adesso stanno andando avanti in modo virtuale. Questi incontri, vi dicevo appunto, sono degli incontri che noi organizzavamo periodicamente al Hotel Wirt, grazie appunto alla disponibilità di Wirt e che ora stiamo portando avanti dal mese scorso in modo virtuale. Do comunque la parola a Marinella e Menghetti e console. Prego, Marinella, se ci vuoi fare un saluto, grazie. Sì, grazie mille, grazie. Mi sentite? Sì. Sì, bene, perfetto. Allora, ringrazio il presidente del circolo svizzero, Fabio Trebbia e tutta la sua squadra per l'organizzazione di questo evento. E come abbiamo detto, anche se questo formato virtuale ha preso l'avvento su quello in presenza, ma c'è forse anche il vantaggio che si riesce comunque a non essere fisicamente a Roma e quindi si possono attingere più persone. E' chiaro, lo sappiamo tutti, l'abbiamo ripetuto tutti, è un periodo molto molto particolare, però io credo che è molto importante, come già hai menzionato tu, Fabio, di dare continuità a questi dialoghi. E diciamo che io sono responsabile anche di tanti altri circoli in territorio italiano e devo dire che il circolo svizzero di Roma si distingue anche per questa offerta di attività molto variegata che riesce ad attingere più persone e anche dalla tipologia appunto dei contenuti. E in una città appunto come quella di Roma non è, con tutta l'offerta che c'è sul mercato, non è una cosa scontata e quindi vanno i nostri complimenti. Da parte nostra dunque, da parte dell'ambasciata, del Consolato, vanno tutti i ringraziamenti anche per la scelta del tema odierno che avete già anticipato, che è sempre molto attuale, quello della migrazione e che prende soprattutto spunto da questo studio esplorativo che era stato commissionato dalla Commissione federale della migrazione. Io approfitto anche per scusare l'ambasciatrice Adam che voleva partecipare, però mi ha chiamato dieci minuti fa dicendo che ha avuto un imprevisto di ultima ora e che quindi non potrà essere presente virtualmente, ma lascia anche i suoi saluti e seguirà voi, voi lo mettete, ho visto che lo mettete poi anche sul vostro canale YouTube e quindi anche potrà seguirlo sotto questa forma. Quindi credo che siamo tutti molto curiosi di seguire appunto gli illustri ospiti e quindi lascio lo spazio chiaramente ai presenti e ancora una volta rinnovo i miei ringraziamenti e auguro a tutti un'eccellenza serata e grazie soprattutto dell'invito. Mi sentite? Sì. Allora, intanto voglio ringraziare il Circolo Svizzero di Roma, saluto il rappresentante dell'ambasciata svizzera e i colleghi. Guardate, insomma, è complicato intanto aprire rispetto a autorevolissime persone che mi seguiranno, che diranno sicuramente cose più stringenti e probabilmente anche più calzanti rispetto alla questione anche nella prospettiva diciamo odierna. Io diciamo che ho il compito, a quanto ho capito, di fare una sorta di sintesi introduttiva rispetto a questa assioma che vede la Svizzera legata al concetto di migrazione. Insomma, da questo punto di vista posso dire che nel vecchio continente e in generale nel mondo la Svizzera era una fattispecie molto interessante, quasi un unicum senza precedenti, perché anche dal punto di vista della storiografia molte volte è stata relegata a un paese marginale rispetto a un fenomeno che l'ha traversata nei secoli, non fosse altro inizialmente per la sua colloquazione geografica e poi successivamente anche per le sue performance economiche, e poi soprattutto perché è un unicum anche rispetto nel quadro generale del continente europeo. Luminati sarà sicuramente più interessante rispetto sul tema giuridico, rispetto a quello che potrò dire io, però di fatto se volessimo stare alla storia tra il XIX secolo ad oggi, la Svizzera è indubbiamente il paese continentale del vecchio continente che per prima si dota di un'infrastruttura legislativa in termini di gestione dei fenomeni migratori alla pari degli Stati Uniti. Nonostante il continente europeo avesse come guida da questo punto di vista la Francia, però la Svizzera sicuramente si segnala come essere uno e il paese a dotarsi di un'infrastrutturazione legislativa complessa. Nel XVII nasce la polizia degli stranieri e poi tutto il dibattito che avverrà negli anni venti e poi negli anni trenta la prima legge organica di gestione della migrazione. Se noi mettessimo in connessione, che poi credo sia anche la traccia che mi è stata affidata, il lungo percorso della presenza italiana in Svizzera e allo stesso tempo degli svizzeri in Italia, potremmo dire che oggi noi ci ritroviamo paradossalmente, potremmo portare indietro le lancette dell'orologio nell'ultimo quarto di secolo dell'Ottocento e ci ritroveremo grossomodo appunto nel XIX secolo nel quale la Svizzera conosce e incontra l'esodo di massa che arriva, ma allo stesso tempo è un paese che questo esodo, certamente con cifre che sicuramente non sono secondarie, continua a vivere. E questo è un po' come dire, io lo dico sempre, la Svizzera può essere utilizzata come modello d'analisi su scala internazionale per capire che cos'è un paese che vive ancora una fase migratoria in uscita, passatemi il termine, ma allo stesso tempo sperimenta la fase migratoria in ingresso. e il suo ruolo geopolitico all'interno di una strategia dell'Europa tra il XIX e il XX secolo fanno sì che la Svizzera diventi un grande attrattore. Lo sapete, l'esodo di massa italiano inizia con i grandi terrafori, Sempione prima, Gottardo poi, che sono i luoghi nei quali vengono attratte umanità dall'Italia. E se noi iniziassimo a rileggere le pagine di quella fase storica, probabilmente già lì riusciremo a cogliere alcuni segnali, alcuni aspetti che poi accompagneranno da un lato questa presenza e dall'altro anche quello che poi è il tema della percezione sulla quale anch'io sono curioso di ascoltare Gianni Lamato, perché poi alla fine dei conti la migrazione è sì numeri, è sì tanti temi che vanno dall'economia alla sicurezza, alla convivenza, ma soprattutto c'è una parola attraverso la quale noi ancora oggi riusciamo a identificare tutto il dibattito sui fenomeni migratori, che è la parola percezione. Ora, la parola percezione, ieri come oggi, attraversando i secoli, è un elemento distintivo, qualificante rispetto al tema. Ma ritorniamo un attimo a questo fluire che cercherò di essere abbastanza rapido e so di dire cose scontate per molti, soprattutto per chi mi seguirà. E quindi dalla stagione dei grandi terrafori arriviamo a cavallo dei due secoli. Fino all'Ottocento iniziamo ad entrare nel Novecento, nel ventesimo secolo. Ora, la caratteristica della presenza straniera in Svizzera qual è? È che sarà tale almeno fino agli anni Ottanta del Novecento, ovvero per l'ottanta per cento la presenza altra è fatta da presenza dei paesi che circondano la Svizzera, tedeschi e tedesche. Quindi lo dirò una volta, ma il gender balance, lasciatemelo passare così, quindi tedeschi e tedesche, austriaci, italiani, francesi. Insomma, uno degli elementi storiografici più interessanti è che le prime dispute di contrapposizione e di percezione negativa nei confronti dell'altro nascono non sulle spalle delle italiane e degli italiani, ma rispettano la presenza tedesca che inizia a essere molto marcata e forte, soprattutto nello spazio ovviamente di lingua tedesca. Ma parimenti, a cavallo tra i due secoli, anche quello che è un mondo, che è quello delle rappresentazioni di manifestazioni e di contrapposizioni sociali. Cioè noi siamo in una fase storica nel quale nascono le leghe socialiste, nasce grosso modo anche la storia del partito socialista, e se volessimo fare una sintesi, le prime manifestazioni del primo maggio in Svizzera, che come sapete è un tema sul quale si potrebbero aprire giornate di dibattito storiografico, vede la presenza e il motore forte di coloro che, giunti dall'Italia, giunti dalla Germania, danno una spinta forte anche alla costruzione di questo movimento. Il periodo tra le due guerre è un periodo che nella storiografia è visto come un periodo di chiusura, che poi realmente di chiusura non fu. C'è una pubblicazione che sicuramente conoscete, Peter Manz, che parla degli italiani a Basilea, che a un certo punto, richiamati da questo senso della patria, rientrano a richiamo alle armi durante la Prima Guerra Mondiale. Però il periodo tra le due guerre è un periodo interessante, uno per quello che vi dicevo prima, la costruzione di un'architettura legislativa e normativa rispetto al fenomeno migratore. È del 1931, l'istituzionalizzazione o l'istituzione, poi illuminate in questo mi correggerà, del concetto di stagionale. Cioè lo strumento legislativo viene costruito in quella fase storica e poi vedrà la sua grande esplosione nel secondo dopoguerra. Strumenti di stagionalità erano presenti già durante i trattati e le convenzioni del periodo liberale ottocentesco prima, però diciamo che in una sua declinazione contemporanea quella è la fase storica. Ma quella è anche una fase storica nella quale dopo negli anni 30 si ritrae, come facilmente potete immaginare, la presenza tedesca in Svizzera e inizia il lento sorpasso della presenza italiana. Dall'altro ci sono gli esuli, tant'è che la Svizzera era uno dei paesi che ha visto una forte presenza di esuli, e anche una forte organizzazione in loco di forme associative che in un certo qual modo, in una maniera oscura, si contrapponevano a quello che stava accadendo dal punto di vista politico e legislativo in Italia e quindi durante tutta la fase del regime, fino ad arrivare poi a un periodo storico importante che è quello tra il 1942 e il 1943. Nel 1942, come sapete, la Svizzera per la prima volta chiude i propri confini, ta spot is fall, siamo talmente pieni che non possiamo, nel mondo che si sta combattendo, noi per la prima volta era dalle guerre napoleoniche che non era messa a così dura prova l'indipendenza e la neutralità della Confederazione, allora chiudono le frontiere. L'8 settembre del 1943, l'8 settembre italiano ovviamente, porterà a un cambio di paradigma, ma soprattutto porterà anche all'istituzione di una serie di figure, quella del rifugiato militare, per cerrarne solo una, che consentirà l'ingresso di coloro che scappavano dai due anni che seguiranno l'8 settembre, più tragici poi della storia italiana dell'epoca. La migrazione di massa, che era partita, e mi avvio, credo di avere altri 4-5 minuti, giusto? Fatemi segno, se non vorrei essere eccessivamente prolisso. Comunque, la stagione della migrazione di massa, che era iniziata con i trafori, riprende immediatamente, già nel 1946. Nel frattempo, che cosa era accaduta? La Svizzera viene riempita di campi di lavoro, molte brigate, addirittura partigiani, intere squadre di partigiani troveranno rifugio in Svizzera, ma già nel 1946 inizia con forza la presenza italiana e inglesa. Tant'è che nei documenti dell'epoca questa presenza si segnalava per una tipologia, insomma, erano molti, ma il tasso di clandestinità era molto alto. Tant'è che le autorità federali, e questi sono documenti che si trovano negli archivi, soprattutto nell'archivio di Stato di Berna, ma anche se andate sulla piattaforma Dodis, dei documenti diplomatici svizzeri, trovate più verbali di riunioni nei quali si segnalava la crescente presenza italiana nel paese, ma allo stesso tempo la difficoltà di controllare e sapere i numeri quali fossero. Ma c'è poi un anno che corrisponde nella storia italiana e l'anno, come dire, il 2 giugno del 1946 l'Italia divenne repubblica, ma sostanzialmente diventa di repubblica il primo gennaio del 1948. E il 48 allo stesso tempo è un anno significativo, perché se da un lato l'Italia aveva aperto la sua stagione, quella che passerà alla storia come la stagione d'oro degli accordi di emigrazione, che sostanzialmente erano frutto della stagione dei trattati di pace. Quando l'Italia arriva a Parigi nel 1947 a firmare il trattato di pace, De Gasperi ha alle spalle una discussione che vede da un lato la difesa di territori da preservare e dall'altro il tentativo di aprire direttrici dell'ammigrazione. Le Americhe sono un mondo chiuso, già negli anni 20 si chiusero, in America Latina è complicato e si aprono le direttrici innanzitutto verso il Belgio e quindi io da qualche tempo uso una provocazione che tanto provocazione non è. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, probabilmente quell'articolo andrebbe riscritto con l'Italia è una repubblica fondata sull'emigrazione. Semplice, il 23 giugno 1946, esattamente tre giorni prima l'inizio dei lavori ufficiali dell'Assemblea Costituente, il primo atto che la Repubblica italiana compie non è quello di discutere dei territori dell'Istria o di quello che sta capitando in giro per l'Europa, ma sigla l'accordo con il Belgio e l'accordo con il Belgio minatore in cambio di carbone diventa l'inizio di una stagione che vede l'emigrazione se da un lato per i paesi che accoglieranno e quindi per la Svizzera la migrazione diventa un pilastro economico di ripartenza, di tenuta e di crescita, per l'Italia la migrazione diventa un pilastro economico allo stesso maniere. E questo è un elemento importante da sottolineare, tant'è che poi arriviamo nel 1948 e l'Italia siglierà l'accordo più importante per i suoi prossimi trent'anni e la Svizzera probabilmente per il suo secolo che verrà, ovvero il primo accordo tra Italia e Svizzera. Per la Svizzera sarà un momento particolare perché è la prima volta che l'apparato statuale in senso largo, largissimo, sigla un accordo del genere che è cosa ben diversa dalla convenzione ottocentesca che la Svizzera aveva con l'Italia e anche con alcuni aggiustamenti tra la Svizzera e poi l'Italia fascista. Cioè, stiamo parlando di un'altra cosa. Stiamo parlando della possibilità di far arrivare e di strutturare in massa una presenza. Dall'altro lato, l'Italia cosa fa in quegli anni? Ve l'ho detto prima, nel 1946 l'accordo con il Belgio, ma negli stessi anni costruisce la più grande strategia di esportazione di donne e di uomini che è la storia occidentale di ricordi. Ripristina il Ministero del Lavoro della Massima Occupazione aprendo le sedi dislocate, le regioni ancora non esistono in tutto il territorio provinciale, ma soprattutto mette in piedi i centri emigrazioni. E' uno dei luoghi più importanti per la direttrice migratoria verso la Svizzera sarà il centro di emigrazione di Milano. In realtà, i centri di emigrazione o il tentativo di governare questo flusso migratorio dimostrerà un fallimento, riuscirà in parte solo con la direttrice belga, ma con la Svizzera sarà pressoché quasi inconsistente, e inizierà la lunga fase della presenza italiana nel nostro paese e sostanzialmente poi sarà una stagione per la quale la presenza italiana in Svizzera rappresenterà un modello sul quale stesso le istituzioni elvetiche e stesso la società Svizzera sperimenterà le proprie politiche nei confronti dell'altro e nei confronti della migrazione. E' ricca di episodi che non sto qui a ricordarvi, però questa presenza ha portato, mentre nella storiografia italiana fino a qualche anno fa l'unica grande tragedia che si ricordava era Marcinelle, tant'è che è stata dedicata all'8 agosto la giornata italiana del sacrificio nel mondo, anche la Svizzera vivrà la grande, la sua grande catastrofe che è Matt, Matt, 30 agosto 1965 e probabilmente il fatto che quella tragedia sia accaduta proprio nell'anno in cui qualche mese dopo nasceva il primo partito anti-italiani, anti-stranieri con il deposito della prima iniziativa che poi verrà ritirata, bisognerà poi aspettare cinque anni dopo Schwarzenberg, insomma la dice lunga su come quel momento rappresenti tutto sommato anche un momento spartiacque su quale bisognerebbe secondo me ancora approfondire il tema, ma d'altronde una catastrofe come la pandemia che stiamo ancora vivendo non è altro che un processo di accelerazione della storia e quel momento in cui i fari si accendono su una dinamica e quel giorno il 30 agosto 1965 il fatto che le vittime si dividevano quasi equamente tra italiani e svizzeri e il fatto che morissero tutte e due senza distinzioni di cittadinanza di passaporto o di permesso di soggiorno sotto due milioni di metri cubi di ghiaccio e detriti probabilmente apri una nuova stagione quanto poi abbia trovato radicamento questa stagione lo vedremo col fluire della storia e del tempo oggi e chiudo la presenza italiana è una cosa molto articolata molto lunga ha vissuto molte fasi ha vissuto come dire una fase che va fino agli anni 60 in cui la presenza era pressoché settentrionale la meridionalizzazione del flusso migratorio ne ha cambiato molto le coordinate gli anni 70 saranno il decennio subito dopo Mart delle iniziative e la crisi petrolifera l'espulsione di mano d'opera come dire in un certo modo calmererà questo rapporto si sa nei processi storici non esistono date o momenti ma noi storici ci illudiamo di individuare delle date dei momenti per dire c'è un prima e c'è un dopo ma questi processi sono figli di una lunga e lenta stratificazione però se volessimo trovare il momento spartiacque del cambio di paradigma lo potremmo identificare nell'espressione massima nazional popolare ovvero la vittoria del mondial del 1982 rappresenta in una maniera iconoplastica questo cambio di paradigma non sarà così è il mondo che è cambiato abbiamo alle spalle il decennio 70 ma ecco lì inizia una stagione nuova e anche una stagione nuova in Italia che conosce la sua definitiva affermazione dell'italian lifestyle immaginate che cos'era la Milano da bere nell'immaginario collettivo quella svizzera l'altro l'altro che si presenta con la sua dolorosa ma significativa ristrutturazione del sistema economico e produce lo smudge ecco vedete sono queste due fotografie che si affiancano e oggi le italiane e gli italiani in Svizzera rappresentano ancora la prima comunità di stranieri però anche qui i numeri sono altilenanti è la nazionalità che ha il maggior numero di doppie acquisizioni siamo oltre 700.000 ma di cui la metà e io rientro in questa metà hanno anche come dire questa doppia nazionalità che fanno della Svizzera il luogo massimo per approfondire la lunga epopea della migrazione italiana io quando ho iniziato a occuparmi del tema laureandomi una tesi sull'emigrazione poi facendo il mio dottorato di ricerca e tutto il resto ero come dire ossessionato da un tema come fosse possibile che la storia della presenza italiana che è stata così significativa che ha visto dal 1958 fino al 1976 accogliere in Svizzera piccola com'era piccola com'è la metà di tutto il flusso migratorio del secondo dopoguerra in uscita che partiva dall'Italia e nonostante questo questa pagina di storia fosse relegata ai margini e per dirla agli addetti ai lavori se voi andate a vedere un po' la bibliografia fino a un decennio fa la Svizzera era sempre accomunata alla Germania questo sul lato italiano sul lato svizzero invece molto è stato fatto e oggi possiamo dire che la migrazione è non un corpo estraneo rispetto all'identità io non amo la parola identità potrei fare mille battute su che cosa significhi oggi essere svizzeri o svizzere o meno ma diciamo che l'identità è sicuramente stata forgiata in questo paese attraverso il lungo fluire e divenire costante della presenza dell'altro e non è un caso che questo paese oggi risulti il paese più innovativo soprattutto in alcuni settori nella scena mondiale e credo che probabilmente il contributo dell'altro l'incrocio il lungo fluire del tempo che necessita la conoscenza dell'altro ci fa dire che oggi sicuramente esiste in Europa un modello di società che più che da altre parti addirittura più degli Stati Uniti ha visto l'incidenza del fenomeno migratorio così profonda radicalmente profonda da cambiarne in un certo qual modo anche l'essenza più profonda che cosa ci abbia portato oggi questo non spetta a me dirlo lo scriveranno gli storici tra 50 anni o tra un secolo però indubbiamente credo che tra le sue mille contraddizioni i suoi tanti paradossi questa storia credo che abbia cambiato abbia reso il paese forse mi sia consentito un po' meglio di come lo descrivevano un secolo o due secoli fa io vi ringrazio grazie per la breve introduzione volevo anche ringraziare il signor Trebbi del circolo svizzero e il circolo svizzero nella sua complessità per l'invito dare questa presentazione volevo anche ringraziare le rappresentanze consulari svizzere a Roma forse il video ci permetterà poi anche di vederci in loco perché insieme con l'istituto svizzero il nostro NCCR on the move e il CNR di Roma organizzeremo in giugno un incontro all'istituto svizzero sul tema di un paese lontano e le immigrazioni e le nuove mobilità in cui ci sarà anche Tony Ricciardi che ha presentato adesso un eloquente discorso sulla situazione della migrazione italiana verso la Svizzera che sarà difficile per me di competere con lui con la sua eloquenza e anche la sua grande profonda conoscenza dei rapporti tra lo svizzero per quel che riguarda non solo l'immigrazione ho preparato una piccola presentazione adesso spero che sempre questi questi transiti tra l'introduzione e la presentazione spesso non funzionano adesso vediamo un po' se i dei del PowerPoint mi daranno un piccolo aiuto la presentazione che presento è coesione e convivenza dei comuni svizzeri come la migrazione viene percepita dalla popolazione residente e di per sé il titolo non è completamente giusto anche se questa è la presentazione del rapporto che vi farò perché di per sé non volevamo analizzare in primo luogo l'immigrazione o la migrazione in Svizzera come è percepita nei vari comuni periferici della Svizzera ma anche il concetto della trasformazione perché di per sé la nostra ipotesi per questa piccola ricerca che è stata finanziata dalla commissione federale delle immigrazioni CFM di Berna era quello di legare la migrazione con le trasformazioni sociali con cui è confrontato la Svizzera ma non solo la Svizzera e questo era il test che volevamo fare per cui abbiamo deciso poi di andare in certi comuni che vi presenterò per cercare di capire fino a quale punto la nostra ipotesi era giusta il contenuto della presentazione divisa in quattro capitoli la ricerca viene a voi il nostro studio un po' diverso che abbiamo cercato di fare con il sostegno del CFM poi parlerò delle trasformazioni generali e in particolare poi avete detto migrazione fino a quale punto poi la migrazione ha un ruolo e poi cercherò di riflettere con voi cosa si può imparare da questo piccolo studio il titolo svizzero tedesco è la Fortschiepide Lüt un modo di andare presso la gente un modo anche di cercare di capire cos'è che prema la gente la ricerca viene da voi e questo è stato di per sé anche il modo di approcciare il nostro studio le prime riflessioni che avevamo fatto per questo studio erano le seguenti di per sé quali sono gli effetti della migrazione sulla popolazione residente cos'è che ci fa la migrazione per capire questo qui abbiamo cercato di un approccio che cercava di avvicinarsi alla gente di andare a parlare con la gente il nostro principio non era quello di fare immediatamente una domanda che riguardava le migrazioni ma la trasformazione sociale il tipo di approccio come c'è scritto qui era aperto era di prossimità a bassa soglia abbiamo usato dei giochi sui tablet per cercare di coinvolgere la gente con la quale eravamo in contatto e poi abbiamo cercato anche di fare delle interviste il gruppo target era una popolazione residente media dei agglomerati svizzeri non nei centri urbani non cercavamo di entrare nei centri urbani non ci interessava neanche una divisione tra centri urbani e centri rurali però volevamo entrare in una zona intermedia dove secondo le statistiche pubbliche vive la gran parte della della Svizzera degli svizzeri e delle svizzere dunque il focus erano i comuni di agglomerazione in quattro zone della Svizzera tedesca in due della Svizzera francese e in due della Svizzera italiana i luoghi erano come si vede qui poi anche Rheinfelden nella Basilea Campagna Belp vicino a Berna Oftringen nell'Argovia Rümland nel cantono di Zurigo e poi Le Loc e Lutri vicino a Losanna Le Loc naturalmente nel cantono di Meschatel Agno e Lozone nel canton Picin e qui si vede anche un po' com'è che abbiamo scelto Belp anche perché si deve anche sapere che la divisione forte in Svizzera è quella tra centri urbani e gli anelli suburbani lì ci stanno i grandi clivaggi le grandi divisioni politiche e per cui è interessante capire cercare di capire com'è che batte il cuore in queste zone questo l'abbiamo fatto soprattutto attivando dei criteri di selezione che era quella di una crescita significativa della popolazione negli ultimi cinque anni è una proporzione di straniera non superiore al 35% questi sono stati i criteri abbiamo creato uno stand con una certa architettura abbiamo utilizzato un bus che ci portava in questi diversi luoghi con la possibilità anche di creare questo stand come lo vede qui a Lutri e poi di parlare con la gente come qui a Dagno abbiamo partecipato a una festa locale per vedere cos'è che pensava la gente avevamo dunque varie possibilità di attivare le persone con i tablet menzionati ma anche per fare delle interviste gli strumenti utilizzati erano un gioco come questo qui per cercare di capire prima i dati sociodemografici poi di conoscere le stime sul proprio comune di capire anche le percezioni che la gente aveva del proprio comune e poi abbiamo fatto anche dei giochi su temi come per esempio la naturalizzazione quello che anche era interessante era naturalmente fino a quale punto il comune ha cambiato negli ultimi cinque anni e come è stato percepito questo cambiamento e poi abbiamo cercato anche di porre delle domande che andavano in direzione dell'emigrazione come per esempio quella della diversità ci deve essere più diversità nel suo comune per quel che riguarda le classi sociali le generazioni le origini o anche per quel che riguarda atteggiamenti politici quello che abbiamo poi cercato di capire attraverso questi dati e le sue analisi era di documentare le impressioni che abbiamo visto sul campo di descrivere poi anche sia con i dati qualitativi che con i quantitativi le percezioni del cambiamento della trasformazione sociale e locale di quei comuni poi se era necessario di attivare delle domande che posizionavano gli intervistati sulle questioni di migrazione e esaminare gli atteggiamenti e questo l'abbiamo fatto poi anche per creare e elaborare una tipologia rivengo ai partecipanti ne abbiamo quasi intervistati abbiamo quasi avuto contatto con 500 partecipanti 300 più di 300 hanno giocato al tablet più di 270 interviste sono state fatte che abbiamo poi analizzate e c'era anche un'intersezione di 91 persone che hanno sia giocato con il tablet che hanno partecipato ad un'intervista e questi li abbiamo analizzati in un modo più profondo dunque cos'è che è cambiato in generale e qual è cosa in particolare quello che abbiamo capito è che il cambiamento è percepito in modo concreto e soprattutto a livello locale e quello che è usato soprattutto dalle persone che abbiamo intervistato era l'esperienza tutti parlavano di esperienze di prima mano ma non soprattutto il tema della trasformazione del luogo in cui vivono la migrazione molto raramente è stata affrontata per primo tema e quasi mai direttamente quello che è stato il tema forte per molti di questi abitanti e residenti di questi comuni è stato il cambiamento materiale la crescita per molti la crescita è vista soprattutto in modo negativo cioè stanno sempre di più case più abitazioni più densità più auto più traffico anche più persone è sempre meno natura questo questo bivio questo questo clivaggio è stato quello più pronunciato e poi ci sono naturalmente anche degli effetti collaterali che in gran parte sono stati definiti o descritti in modo positivo come per esempio l'opportunità di andare a fare le spese il shopping e anche l'espansione del traffico pubblico in vicinanza che collega questi comuni con i centri urbani quello che anche era interessante di capire è che naturalmente quando avevo chiesto dov'è che è molto denso il suo comune il loro comune i residenti avevano una percezione abbastanza chiara di dov'è che si trovavano i luoghi densi e quelli meno densi questo dunque significa che l'affollato nei comuni non è dappertutto uguale quindi non c'è un luogo che è solo affollato però ci sono certe zone nei comuni in cui vivono più gente che altri e in qualche modo questo ragionamento ricorda la votazione del 2014 non solo quello sulle migrazioni di massa ma anche quello dell'Ecopop anche se questi comuni per quel che riguarda la votazione Ecopop non hanno appoggiato la votazione dunque c'è lì o un cambiamento di atteggiamenti o c'è un vivio tra idee percezioni e poi anche comportamento politico quello che è anche chiaro è che l'anonimato è il grande problema che si manifesta in questi comuni c'è sempre di più meno vita associativa c'è meno conoscenze personali ci sono anche meno contatti per strada e si intravede poi anche il numero degli stranieri quello che è interessante è che nonostante la ristrettezza e la densificazione si può notare una certa desintegrazione della coesione che è percepito come cambiamento c'è sempre più gente che vive insieme però non ci si conosce più e questo cambiamento è visto da una metà dei residenti come un cambiamento verso il meglio e un'altra metà verso il meglio dunque adesso andiamo un po' entriamo nel fuoco della materia e cerchiamo di vedere qual è il ruolo delle migrazioni in questi comuni che abbiamo descritto secondo lei e questa è una domanda adesso al pubblico quando è stata posta una domanda introduttiva aperta sul cambiamento quale percentuale di intervistati secondo lei pensa che abbia spontaneamente menzionato la migrazione come un problema cosa ci stanno le opinioni io non sento niente spero che mi avete sentito finora e che non abbia parlato sì si è sentito perfettamente chiunque voglia fare una domanda può accendere il microfono in autonomia e poi chiuderlo sì giusto cioè la domanda è qual è la percentuale delle persone che hanno nominato migrazione come il primo problema come il primo problema secondo lei secondo voi 70 perfetto giusto anche io ho detto 70 65 giusto 65 per essere corretti dunque questo è stato il numero di per sé quando poi si tratta è un numero che salta agli occhi 65% degli intervistati lo discutono l'hanno discusso come primo problema però quello che è stato molto interessante quando si tratta e si cerca di analizzare questo argomento questa riflessione si capisce che non sono solo atteggiamenti generalizzabili o preconfezionati spesso la gente ha reagito in modo differenziato e talvolta ambivalente c'era come una gerarchia delle idee per quel che riguarda il gruppo dei migranti c'era un rifiuto forte o più forte per l'incarnazione dello straniero moderno che è il rifugiato politico richiedente d'asilo i neri i musulmani gli europei sudorientali e dei balcani gli atteggiamenti sono meno negativi lì riprendo quello che ha detto Tony poc'anzi verso le immigrazioni classiche dell'Europa del sud verso la Svizzera l'immigrazione europea in modo complessivo gli expatri e gli lavoratori altamente qualificati lì c'è un atteggiamento molto più positivo se si vuole entrare in materia si può anche vedere e correlare il nostro risultato con uno di Jörg Stolz del 2000 che il pessimismo sulle trasformazioni spesso correla con un semplicismo sull'immigrazione cioè la paura del cambiamento è strettamente connesso con la paura in riguardo ai migranti quello che abbiamo poi cercato anche di creare una tipologia per capirne un po' di più e abbiamo visto che ci stanno delle proporzioni abbastanza grossolane però secondo noi che spiegano una certa tipologia degli atteggiamenti quello che abbiamo visto è che ci stanno certi 10% che ha una forte avversione un rifiuto generale categorico senza dover dare alcune giustificazioni poi ci stanno gli scettici che è argomento del loro rifiuto però fanno poi anche delle eccezioni quando l'immigrazione è utile alla propria situazione poi ci stanno coloro che sono ambivalenti hanno un atteggiamento inconcludente in fin dei conti e poi ci stanno il 27% che sono molto aperti per quel che riguarda l'immigrazione che lo vedono come una nuova normalità e prendono le loro distanze dai pregiudizi questi dati vengono in gran parte poi anche confermate da uno studio dell'ufficio federale sulle statistiche sulla diversità in Svizzera quello che non sappiamo è cos'è che pensa l'altro terzo che non ha preso posizioni per quel che riguarda l'immigrazione che non hanno nominato l'immigrazione come un tema principale chi sono coloro che esprimono un atteggiamento negativo o scettico in gran parte è gente che vive residenti non solo in Svizzera anche immigrati o di seconda generazione che vive da lungo tempo in Svizzera che ha tendenze politiche di destra che è avanzata nell'età e queste categorie incoraggiano poi una posizione critica in riguardo all'immigrazione quello che è importante per i residenti di lungo corso è soprattutto avere dei contatti e per loro la percezione che altri gli altri tra parentesi non tra virgolette non parlino la propria lingua è molto importante cioè vogliono si vuole desiderano che la gente si adatti e che partecipi al mondo locale indipendentemente delle origini questo è un dato che è stato ripreso poi anche in un vecchio studio del 2003 e che abbiamo riconfermato per la gente è importante la partecipazione nel posto vogliono che il loro luogo il loro comune viva e si vedano confrontati con delle trasformazioni in cui viene in gran parte svuotato sia da trasformazioni economiche in cui le abitazioni diventano sempre più care nei centri anche dei comuni periferici che abbiamo menzionato sia che poi si ha l'impressione che di non conoscere chi è che viene a vivere che forse sarà utile per le tasse per le imposte però non si ha nessun contatto dunque cos'è che si può imparare da questo studio che abbiamo fatto sicuramente è stato uno studio esigente perché abbiamo cercato il contatto diretto con la gente e quello che abbiamo capito è che la migrazione non è solo un argomento importante ma spesso anche considerato da normalità da molte persone e che c'è anche dei comuni periurbani una larga gamma di opinioni per quel che riguarda la coabitazione nel proprio comune ma quello che abbiamo anche registrato è che se si è confrontati con cambiamenti rapidi siamo confrontati anche con forti destabilizzazioni e anche con la tendenza di rispingere soprattutto per quel che riguarda le persone che arrivano nel proprio comune un gran numero di questi nuovi arrivati ma anche di pendolari o di frontalieri in generale o di migranti e rifugiati in particolare dunque quali sono le prospettive per il futuro o quali sono le prospettive da riprendere da questo studio di per sé quello che abbiamo imparato è che la gente ha una visione abbastanza molto differenziata delle situazioni ha un orecchio aperto e ha un reale interesse di partecipare al proprio comune e di voler avere una voce in capito e questo è un buon punto di partenza anche per quel che riguarda l'inclusione anche l'inclusione di persone arrivati da recente anche per quel che riguarda i migranti perché c'è una voglia di partecipazione e c'è anche una voglia di voler comunicare e avere un livello di comunicazione dunque questi sono atteggiamenti che si possono anche tradurre nella pianificazione comunale che potrebbe essere gestita in modo molto più partecipativa e in cui ci si deve anche poi anche confrontare con dei conflitti che esistono e dunque e questo sicuramente me lo scuserete ci saranno ricercati come ricercatore uno dei punti finale è sempre quello di richiedere ancora più studi approfonditi per capire ancora di più cos'è che succede nei nostri comuni elvetici ma non solo elvetici e vi ringrazio per il vostro ascolto buonasera a tutti intanto ringrazio il circo svizzero e l'amico Fabio Trebi per l'invito io sarei stato molto volentieri anche fisicamente a Roma devo dire da tanto tempo che non ci vado dunque sarebbe stato anche bello poterci essere ma siamo ormai confinati in questo mondo virtuale dunque ci permette però comunque di entrare in contatto io non sono un esperto di migrazioni dunque come ho detto anche a Fabio farò qualche riflessione su questo interessantissimo studio che ti ho presentato adesso e poi qualche riflessione anche sì giuridica ma molto ampiamente giuridica direi su quello che sono anche i fenomeni di migrazione nelle due direzioni sia dalla Svizzera che verso l'Italia eccetera io sono un emigrante sono un migrante sono un emigrato perché vengo da una regione svizzera dove tipicamente già da secoli si emigra ho un bisnonno che emigrò a Roma faceva parte di quel gruppo di panettieri pasticceri grigionesi che hanno fatto un po' fortuna in tante parti del mondo esportando anche chiaramente conoscenze e tecniche diciamo locali introducendo nella pasticceria per esempio il burro e altre e altre la panna eccetera dunque vengo un po' da questo mondo ho sempre avuto dei rapporti in questo senso anche storicamente con i parenti romani dunque questo legame appunto di appartenenza sia da parte dei parenti che poi storicamente venivano anche in valle in vacanza sia dall'Inghilterra che da altri paesi e dunque e io stesso ho vissuto un'immigrazione interna perché io non sono immigrato in Italia ma nella città tedesca come fanno la gran parte diciamo anche dei poschiavini per motivi di studio di lavoro eccetera tocca andare a nord dunque diciamo che in questo senso sono un esempio vivente di varie varie forme di migrazione e dunque il tema mi interessa e mi è vicino anche per questi motivi intanto vorrei dire alcune cose sullo studio presentato dal professor D'Amato che è veramente molto interessante ho trovato in particolare anche il metodo molto interessante molto molto avvincente questo appunto bidelut cioè andare proprio sul posto fare un tipo di analisi non classica ma appunto nel contatto diretto e ci sono alcuni aspetti veramente anche che diciamo che fanno capire intanto l'importanza della dimensione locale nella vita vita politica sociale eccetera nonostante appunto la vita in rete le globalizzazioni eccetera effettivamente questa dimensione locale anche per la partecipazione politica sembra essere ancora molto importante e in Svizzera si nota però che a livello di politica anche locale spesso è molto anche difficile trovare chi è disposto a essere attivo nella politica locale c'è anche un distacco dalla politica in questo senso e si vede anche che il problema della gestione partecipazione anche locale è connesso poi con la percezione di cambiamento e forse anche questa percezione negativa legata al fatto che il cittadino singolo non può cogestire quello che succede è soltanto diciamo vittima o osservatore di quello che succede e questo mi sembra veramente un aspetto sul quale sarebbe da riflettere anche sotto altri punti di vista è molto interessante il fatto che i temi importanti del cambiamento non erano direttamente legati alla migrazione ma poi la migrazione esce almeno in due terzi delle interviste compare poi come un aspetto principale mentre più di un terzo degli intervistati non ne parla questo chiaramente mi sembra chiedersi poi perché non ne parlano perché non lo vedono come un problema oppure perché potrebbe anche essere che non ne vogliono parlare cioè che c'è un'altra certa tendenza a forse non uscire fuori con quell'argomento per vari motivi però è chiaro che il tema della presenza dell'altro degli altri in queste realtà locali c'è anche se forse rispetto diciamo a quello che i media la politica quotidianamente in Svizzera ci presentano e parano della tematica sembra che in effetti ci sia il problema ma non sia a quel livello diciamo della meritizzazione che ne viene fatta perché si vede poi che appunto molte persone considerano quasi normale il rapporto con l'altro la presenza dello straniero dunque lo studio penso sarebbe interessante poi proporlo farlo anche in altri contesti sociali economici della Svizzera per capire appunto queste queste dinamiche dunque mi sembra molto importante appunto che credo che la convivenza presupponga appunto da ambo i lati a una partecipazione anche attiva c'è anche il problema in Svizzera che poi la partecipazione attiva degli altri dello straniero a livello politico poi per esempio è quasi impossibile dunque questo mi sembra un vecchio tema quello che gli stranieri che contribuiscono all'economia che sono presenti a vario livello che pagano le tasse eccetera però poi non hanno voce in capitolo a livello politico e lì forse si dovrebbe anche pensare su delle trasformazioni in questo senso non soltanto a livello locale ma anche a livello nazionale questo così per alcune impressioni mie molto personali su questo interessantissimo studio che avete fatto a Nechatella da parte mia vorrei adesso forse un po' rivolgere l'attenzione a quello che sta succedendo negli ultimi tempi cioè le nuove forme di migrazione noi abbiamo conosciamo chiaramente il fenomeno delle migrazioni dovute alle guerre ai genocidi alle questioni politiche appunto extraeuropee che poi ci portano questo grosso fenomeno della migrazione ma dal punto di vista svizzero verso l'esterno abbiamo un altro fenomeno di una mobilità molto complessa temporanea che è cambiata anche diciamo rispetto sia alla fascia d'età alla tipologia di persone che va all'estero questo vale anche in parte però anche per l'Italia e anche rispetto diciamo alle motivazioni che stanno dietro le attuali movimenti di migrazione dalla Svizzera verso l'estero la Svizzera ha un tasso molto alto come notava anche di persone che vanno all'estero circa il 10% della popolazione dunque 770.000 o 880.000 svizzeri sono all'estero che è più della popolazione italiana all'estero che sono 8,8% e si nota pure che diciamo sono spesso la gran parte sono persone tra 18 e 65 dunque persone di attività lavorativa sono persone con formazione con un'ottima formazione che coscientemente vanno all'estero non è la fuga dei cervelli italiana che è un problema che ha l'Italia oggi e che noi mettiamo anche in Svizzera perché arrivano anche qui dove diciamo una fascia giovane c'è una fuga per impossibilità di trovare posizioni accettabili di lavoro dopo una formazione molto importante dunque questa fuga dei cervelli verso l'Inghilterra verso la Svizzera eccetera è un fenomeno diciamo che ha un'attesione più negativa rispetto alla fuga di cervelli svizzeri verso l'estero che sono molto presenti ma non è un problema che la Svizzera vede come un aspetto negativo quello che poi anche si nota che non è più come diceva Ricciardi prima non è più lo Stato che organizza le immigrazioni non c'è più un elemento diciamo così anche tra gli Stati di accordi questa questa forma di immigrazione oggi è molto più privata privatizzata sono sono singole persone che decidono per vari motivi di lasciare la Svizzera e dalle poche inchieste che sono state fatte si vede che per tante di queste persone c'è un atteggiamento critico verso la Svizzera stessa benché la Svizzera sia un paese che diciamo ha una come dire un altissimo tasso di ricchezza di sviluppo di innovazione eccetera però ci sono anche fasce della popolazione che ritengono questa Svizzera diciamo non idonea forse troppo rigida rispetto alle loro aspettative dunque queste persone questi expat vorremmo anche chiamarli in parte vanno via dalla Svizzera con una posizione molto elevata a livello anche di formazione eccetera e rispetto forse anche a una una tradizione appunto quella che conoscevo io di una emigrazione che poi manteneva un rapporto molto stretto con il luogo d'origine cioè con questo diciamo anche poi se possibile tornare al luogo d'origine forse anche solo temporaneamente eccetera queste questa generazione nuova di migranti svizzeri ha un rapporto così critico appunto rispetto alla nazione dunque un patriottismo critico ci si sente legati alla nazione stessa ma non più in quel modo diciamo di una patria di un crescimento di patria storicamente appunto legato a nascita ideali eccetera dunque abbiamo anche fenomeni di appartenenze temporanee cioè si va all'estero e poi magari si ritorna o si va da un'altra parte dunque una maggiore mobilità anche in questo senso e qui sarebbe da chiedersi se rispetto a questo fenomeno che per la Suiza non è non è indifferente al 10% non si dovrebbero anche rivedere i concetti di cittadinanza i concetti di appartenenza in questo senso cioè lo Stato non è più semplicemente un territorio chiuso dove si vive oppure si si deve poi lasciare per poter tornare ma il concetto di Stato in sé chiaramente da anni è già stato messo in crisi e dunque si deve anche pensare all'aspetto positivo di questa migrazione e di come creare poi delle reti di rapporti con questi questi cittadini all'estero che vanno oltre il classico concetto di cittadinanza e di di appartenenza a un territorio questo lo vediamo anche in Svizzera stessa cioè anche rispetto alle comunità diciamo non svizzere italiane in Svizzera il concetto territoriale non è più attuale abbiamo tutto un altro concetto che dovremmo riflettere da un punto di vista anche poi costituzionale e giuridico anche perché in effetti questa migrazione è un non è una perdita è un per il paese stesso può e dovrebbe essere anche uno strumento di diciamo di innovazione di sviluppo le migrazioni sono sempre un motore di sviluppo e di innovazione si accennava prima alla Svizzera ottocentesca la rivoluzione borghese del 48 in Svizzera non si sarebbe fatta senza la presenza in Svizzera di questi esiliati tedeschi in parte francesi liberali che hanno costruito insieme a un'elite svizzera lo Stato federale dunque in quel periodo soprattutto anche del fascismo chiaramente l'apporto di questi esiliati anche diciamo alla Svizzera cioè a una riflessione più politica anche o filosofica eccetera della Svizzera sono state molto importanti dunque questo contributo dell'altro in questo senso è stato arricchito la Svizzera e ora il contributo che possono dare anche questi migrati svizzeri che chiaramente guardano criticamente al loro presenza di origine ma comunque hanno un legame dovrebbe essere sicuramente valutato meglio e per fare questo dovremmo superare un po' questi concetti storici di Stato Nazione e di territorio che sono ancora molto presenti questo era il mio breve contributo ripasso la parola a Fabio e volentieri sono a disposizione anche per domande discussioni io ringrazio Michele come tutti gli altri relatori siete stati molto esorienti e devo dire avete dato un ottimo punto e di riflessione spero a tutti quanti se volete fare qualche domanda la potete anche scrivere sulla chat se non volete fare direttamente e li riporteremo direttamente ai relatori altrimenti penso di chiudere qui la sessione e vi ringrazio molto e a tutti di essere intervenuti ci rivedremo il mercoledì secondo di aprile perché il primo è la settimana di Pasqua e speriamo e con un altro bellissimo incontro come questo io sono molto grato a tutti quanti e vi auguro a tutti di una buona serata grazie complimenti ai relatori davvero splendidi interventi tutti e tre grazie 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 mille grazie a tutti buona serata buona serata buona serata grazie a voi arrivederci alla prossima grazie grazie ancora arrivederci arrivederci a Roma la prossima volta grazie a tutti